Il conto alla rovescia per la prima campanella è incalzante e questi giorni sono decisivi per gli incontri a livello ministeriale e locale per avviare l'anno scolastico. Dall'incontro regionale è emersa una sostanziale fiducia per il 14 settembre. La ripartenza il 14 settembre per la stragrande maggioranza delle scuole avviene in regolarità e nel rispetto di tutti i parametri. Per quanto riguarda le aule o gli spazi da usare come aule la situazione in Veneto è soddisfacente anche considerando l'ipotesi di chiedere locali aggiuntivi a privati o parrocchie. Questa ipotesi è stata già percorsa da molti enti locali e sono in atto gli ultimi diciamo abboccamenti per concludere i contratti quindi questa è una strada che comunque è stata anche esplorata. In altre situazioni per motivi vari per esempio l'indisponibilità di locali da avere in affitto si opta per questa situazione dei moduli temporanei. Si tratta di moduli prefabbricati che saranno sette in tutta la regione uno dei quali nel Vicentino. L'ipotesi di obbligare i alluni e studenti a tenere sempre la mascherina sembra limitata solo a casi estremi. Io questa ipotesi cercherò di allontanarla il più possibile dalle scuole del Veneto perché vorrei garantire a tutti gli studenti la stessa condizione di partenza e quindi il metro di distanziamento e l'uso della mascherina non continuativo per cinque ore. Nelle prossime settimane sarà risolto anche il problema del personale. Il nostro fabbisogno aggiuntivo è di 3600 docenti e 2800 collaboratori scolastici e le risorse che ci sono state assegnate al momento risorse finanziarie ci permettono di soddisfare quasi il 50 per cento di questo fabbisogno. Per quanto riguarda il trasporto e lo scaglionamento di arrivi e partenze qualche istituto ha già trovato delle soluzioni spostando per alcune classi l'inizio delle lezioni a metà mattina ma la regola generale sarà di sfasare gli ingressi e le uscite al massimo nell'arco di un'ora.